Occhio al passaggio con il rosso con i sistemi Velocar meglio conosciuti come T-Red. L'amministrazione Masci presenta i dati sulla sicurezza stradale. I numeri sono riferiti al periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2022. Qualche numero, 745 gli incidenti di questi 9 mortali nel 2021 contro i 14 del 2020. 22 milioni le vetture transitate per gli incroci incriminati, cioè quelli che hanno adottato il sistema Velocar. Nello specifico i dispositivi di via Tiburtina, via Stradonetto, via Ferrari, via Michelangelo e via Tirino con l'Erenazzo hanno generato 34.217 sanzioni. Di queste 18.737 per il passaggio con il rosso e 15.480 per mancata osservanza degli articoli 40-41 del codice della strada, cioè per mancato arresto alla linea bianca o per cambio di corsia. Numeri che sembrano importanti ma che di fatto in percentuale rappresentano lo 0.24% dei transiti totali. Va da sé la risposta di Mascio alle polemiche sollevate da chi accusa l'amministrazione di battere cassa. È un quadro positivo al massimo perché abbiamo verificato che a Pescara gli incidenti in questi anni sono diminuiti e non lo dice il Comune di Pescara ma lo dicono i dati Istat e soprattutto il Comune di Pescara è in controtendenza rispetto alle altre realtà abruzzesi che hanno molto meno traffico di Pescara perché sappiamo che Pescara è la città più frequentata da Abruzzo e soprattutto la più trafficata da Abruzzo. Però qui gli incidenti mortali negli ultimi due anni sono diminuiti ed è un dato importante. Sono diminuiti perché evidentemente abbiamo attuato delle politiche di mobilità che portano le persone a essere più attente alla strada. Questo vuol dire meno incidenti, assicurazioni meno care, meno danni alle persone e alle cose perché poi il dato reale è questo. Un altro dato sotto i riflettori è quello relativo ai nuovi sistemi adottati agli incroci di Piazza Duca da Aosta, Corso Vittorio, Viale D'Annunzio, Conte di Ruvo e Piazza Le Laudi, Viale Primovere che aggiungono sì altre 13.000 sanzioni ma il periodo di riferimento è relativo ai primi mesi dell'installazione cioè a ottobre, novembre e dicembre 2022. È ora di abituarsi, assicura il comandante della Polizia Locale Danilo Palestini tempo qualche settimana e le sanzioni diminuiranno drasticamente.